Bella Balordi, eccoci qui tornati a un nuovo video, seconda puntata, o episodio come potremmo chiamarlo, del Blasting Day, dopo aver distrutto Elite nella prima puntata, qui faremo pezzi Elizabeth Banks. Non in generale lei, ma le sue dichiarazioni sul suo film, Charlie's Angels, in cui oltre ad essere regista è anche una delle tre protagoniste. Ti spiego semplicemente Elizabeth Banks come funziona al mondo del cinema. Tu fai un film, floppa, è colpa tua, o è colpa dei produttori comunque, è colpa di qualcuno che ha lavorato il film. Fa successo, è merito di chi ha lavorato il film. Quindi se il tuo film fa cagare, da ogni punto di vista, non puoi dare la colpa al maschilismo e citare Wonder Woman e Capitan Marvel dicendo che anche se sono donne protagoniste, è un film maschilista. Prescindere se non è un protagonista, non può essere un film maschilista. Ma ragazzi, cioè, le Charlie's Angels, che ai tempi, quando uscì il film nel 2001 con Drew Barrymore, Lucy Liu, Cameron Diaz, era un film altamente mediocre, anzi possiamo dire una merda, però comunque c'erano quelle tre attrici lì, e qualche momento divertente c'era, quindi era anche abbastanza guardabile. Io me lo sono visto, infatti non era da buttare, anche se era girato parecchio male. Ma qui non abbiamo neanche quella par... Non abbiamo neanche quell'elemento lì. Quindi, cioè, il film fa schifo e basta, in Italia non è ancora uscito. Però vi dico, vi assicuro che fa cagare. E Elizabeth Banks. Già il solo fatto che l'idea di fare un altro film delle Charlie's Angels è sbagliata. Anzi, è follia. E poi tu pensi a quell'idea, la fai diventare realtà, e poi ti lamenti che il film è floppato. Sei tu una testa di cazzo e chiunque ti abbia appoggiato in questo progetto. Non è colpa del maschilismo, non è colpa della Marvel, non è colpa di Wonder Woman, non è colpa di Capitan Marvel, non è colpa dell'utente medio che si guarda i film. Testa di cazzo.